Ben trovati da TG della mobilità, da oggi il Lazio torna in zona gialla e gli studenti delle scuole superiori possono riprendere le lezioni in presenza al 70%, ingressi comunque suddivisi negli orari del mattino alle 8 e alle 10. E da domani saranno in strada, come di consueto, le linee S, i collegamenti speciali dalla periferia al centro a supporto degli spostamenti degli studenti. Gli orari del servizio sono dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì, solo al mattino il sabato. Tra le novità il potenziamento della linea S03 Bellearti con passaggi ogni 4 minuti e la nuova S15 a ciglia piramide parallela alla ferrovia Roma Lido.